Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su RietiLife.com, Facebook ed Instagram. Al via dopo quasi 5 anni il processo sulla esplosione del distributore dell'IP sulla salaria del 5 dicembre 2018. Nella mattinata di mercoledì 15 novembre sono iniziate le prime deposizioni dei testimoni della tragedia che costò la vita al vigile del fuoco reatino Stefano Colasanti ed Andrea Maggi di Montelibretti. Dopo il rinvio a giudizio ad inizio 2023 per i gestori del distributore, ora il processo entra nel vivo. Momenti di tensione questa mattina in Viale Maraini. Alcuni studenti sono stati protagonisti di quella che più che una risse è apparsa ai testimoni un'aggressione. Un giovane è rimasto ferito tanto da dover ricorrere alle cure del Delellis. Sul posto la polizia per la ricostruzione dei fatti, identificati almeno due giovani. Ennesimo episodio di violenza nel carcere di Rieti. Stavolta a destare sgomento è stato un detenuto albanese ubriaco che ha minacciato gli agenti di polizia per avergli negato una padella. L'uomo ha poi sferrato un pugno ad uno di loro. Anche il disturbatore TV Gabriele Paolini, in carcere a Rieti per scontare una pena di otto anni per diverse accuse, tra cui pedofilia, ha scritto a Rieti Life per denunciare la presenza di un detenuto di origini nigeriane che bivacca sulle scale di una delle sezioni. La segnalazione completa la trovate su rietilife.com. È morto all'età di 57 anni Alessandro Di Mastro Giovanni, reatino d'adozione e l'uomo aveva prestato servizio alla caserma Verdi Rosi. Un uomo di animo nobile, un valentissimo militare dell'esercito e un amico fidato. Queste le parole di chi lo conosceva e che oggi, insieme agli abitanti di Monte San Giovanni, che lo aveva adottato, si stringe al dolore della compagna e del figlio, anche lui militare. Sabato 18 novembre torna l'appuntamento con le giornate ecologiche, organizzate da ASME e da Comune di Rieti. Dalle 9 alle 17, presso il piazzale antistante lo Stadio Centro d'Italia, sarà possibile conferire i rifiuti ingombranti. Si ricorda che le giornate ecologiche sono riservate ai residenti del Comune di Rieti. E apriamo la pagina dello sport con il calcio. Dopo la vittoria contro la Luis Roma, la SSA vuole ripartire anche in casa. Domenica alle 14.30 al Green Park, la società Maranto Celeste ospita l'Astrea, squadra già incontrata ai sedicesimi di Coppa Italia e battuta per due volte 1-0. I ragazzi di Angelone vogliono archiviare quest'ultimo mese e mezzo con non poche difficoltà. La gara sarà ancora una volta a porte chiuse. E passiamo al basket. Partiamo dalla A2 con la Real Sebastiani che torna al Palazzo Giurner domenica alle 18 per affrontare Vigevano. E dopo l'ottavo K.O. di fila, i ragazzi dell'NPC invece proveranno a cambiare il trend a Cassino domani pomeriggio alle 18.00. Sarà una delle partite più importanti per la società di Patron Cattani. Ed era questa l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale di Rieti Life che torna lunedì alle 20.45 su RietiLife.com, Facebook ed Instagram. Buona serata.